Sembra una sorta di accanimento davvero sulle lavoratrici e sui lavoratori non consentire un'uscita anticipata dal lavoro. Dottoressa Calza, ma è vero che insegnare è stressante? Intanto direi che un monitoraggio serio su quella che è la diffusione del burnout all'interno del sistema scolastico non è mai stato fatto, anzi viene assolutamente sottovalutato, ma è in qualche modo confermato anche dai dati sui pensionamenti degli ultimi anni perché sappiamo che nel mondo della scuola c'è stato un ricorso alle opportunità di pensionamento anticipato pur con delle penalizzazioni più diffuso rispetto ad altri settori. Parlo di opzione donna, parlo di quota 100 quando era ovviamente in vigore e tutte le possibilità che ci sono state. Evidentemente questo segnala un malessere diffuso e soprattutto il fatto che l'insegnamento, ma semplicemente non solo l'insegnamento, ma tutte le professioni che vengono esercitate all'interno del sistema scolastico producono un livello di stress notevole perché comportano comunque un sistema di relazioni molto complesso, un sistema di relazioni che è tra l'altro tra docenti e alunni, ma anche con il resto dei colleghi, perché anche la collegialità comporta sicuramente un investimento importante sul termine di relazione con le famiglie, con la dirigenza, con una relazionalità a diversi livelli. Oltre al fatto che il personale della scuola che è nella stragrande maggioranza femminile è personale che è impegnato spesso su più fronti. Le donne oggi vivono con grande fatica la conciliazione tra i tempi della vita, i tempi della cura familiare e i tempi del lavoro. E questo chiaramente porta ad avere non soltanto una condizione di stress notevole, ma spesso anche carriere che hanno una frammentazione, che hanno delle interruzioni e che quindi chiaramente comportano anche dal punto di vista lavorativo molte penalizzazioni. Non c'è sentore a livello di governo nell'aprire un confronto su questo argomento? Insomma abbiamo visto quello che il governo ha scelto di fare con opzione donna, che ha scelto sostanzialmente di affossare questo istituto che consentiva in qualche modo, dava una possibilità di uscita dal lavoro anticipato e quindi direi che assolutamente si è dimostrato di andare in una direzione del tutto contrario. Rimane la possibilità della cosiddetta Ape sociale che viene riconosciuta agli insegnanti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria, che però è un'opzione molto circoscritta e che comporta quindi non un diritto universale rivolto a tutti e a tutti, ma semplicemente come possibilità di avere un'indennità in attesa del raggiungimento dei requisiti necessari. Noi pensiamo invece che la risposta a questa condizione sia quella di offrire a tutti la possibilità di un'uscita flessibile dal mondo del lavoro che tenga conto delle condizioni professionali, delle condizioni personali, degli impegni di famiglia e delle condizioni di salute di ciascuno, perché è importante che si, anche per una questione proprio di prestazione, di qualità della prestazione lavorativa, che ovviamente deve essere data nelle migliori condizioni di salute possibili. Obbligare un insegnante di oltre 60 anni di età stanco, con disturbi fisici e spesso anche vittima di burnout, può creare un disservizio pubblico? Credo che questo sia lampante, ma credo assolutamente che queste condizioni debbano essere riconosciute quindi nell'interesse prima di tutto delle persone, ma anche nell'interesse del sistema. Noi stiamo parlando del sistema scolastico, ma lo stesso discorso si potrebbe fare per tanti altri settori dove effettivamente sembra una sorta di accanimento davvero sulle lavoratrici e sui lavoratori non consentire un'uscita anticipata dal lavoro, ma ripeto per uscita anticipata non intendiamo sicuramente riportare la lancetta indietro di alcuni decenni, ma semplicemente riconoscere che dopo i 60 anni, dopo una vita di lavoro, il diritto effettivamente alla quiescenza sia un diritto sacrosanto e da riconoscere a tutti e a tutti. Certo, non è una concessione. Bene, ringraziamo Manuela Calza dell'FLCCGL. Grazie a voi e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi.